Una partita maschia, uno dei migliori in campo, l'ho chiesto anche prima al tuo compagno Selegardi. È stata un po' una vendetta nei confronti dell'anno scorso oppure è davvero tutta un'altra storia quella col Frosinone? Sicuramente ci è stato più piacere perché l'anno scorso comunque abbiamo subito due sconfitte molto brucianti. Logicamente quest'anno è un'altra stagione e siamo contenti perché comunque era una sfida per la Serie A, si può dire comunque perché è una rivale per la Serie A e abbiamo fatto una gran partita maschia. Non era facile giocare come abbiamo fatto in altre partite ma l'importante è aver preso tre punti e aver fatto una prova convincente. Soprattutto non aver subito gol. E se qualcuno avesse ancora dei dubbi con Bianchetti come si era detto all'inizio stagione penso che con la partita di oggi li hai fugati tutti. A me sta ogni partita dimostrare quello che valgo, dimostrare perché sono voluto rimanere a Verona e perché la società crede in me. Penso di ogni partita di migliorare sempre di più e spero di continuare così. Ecco si viene da un tour de force come l'ha definito anche qualche tuo compagno però che maturità acquisisce il Verona dopo una vittoria come quella di Ferrara e come una prestazione come quella di oggi? Che sappiamo vincere in tutti i modi perché a Ferrara abbiamo fatto una gran partita sotto l'aspetto tattico e tecnico dominando la partita e oggi invece abbiamo fatto una partita maschia dove comunque abbiamo anche saputo soffrire, non abbiamo preso gol e siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. 9 punti nelle ultime tre partite, non abbiamo preso gol, si guarda con fiducia adesso la Ternana. Assolutamente, noi ogni partita abbiamo guardato con fiducia perché il nostro campionato è da vertice, perciò dobbiamo dimostrare in partita di essere da vertice. Adesso prepariamo questa partita e andiamo a terni fiduciosi. Grazie.